Romagna mia, Romagna è il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alta solare. Romagna, Romagna mia, lontano a te non si può stare. Insomma mandarci dei saluti, potete sfruttare tra virgolette i mezzi che ci sono a disposizione di oggi, insomma i social, per cui Twitter, Facebook, Instagram, tutti i migliori, quelli più importanti. Oppure scrivere una mail a infochiocciolacasadeisonora.it. Detto ciò andiamo insieme a scoprire quali sono i protagonisti di oggi. Grazie a tutti. 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 di secondo Casadei e la storia della musica da ballo romagnola. Nella sua residenza, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, potrete ammirare lo studio in cui il maestro fondatore dell'orchestra Casadei ha scritto gran parte delle sue mille composizioni ed inoltre spartiti originali, strumenti musicali, manoscritti, fotografie, divise, premi e riconoscimenti di stima e di affetto che documentano una carriera lunga 50 anni. Ritroverete l'atmosfera unica, viva e brillante di una musica da ballo senza tempo. 6.001 Aplausos 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 Come sempre vi aspettavo per concludere insieme questa nostra giornata, cari amici, io vi abbraccio e vi aspetto ovviamente su queste frequenze, anche domani, per vivere insieme nuove emozioni. Un bacione dalla vostra Letizia. Ciao. Letizia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.